Si chiama Nantesiemi, è un bambino di 8 anni di età, il quale era scomparso nel bosco. Per ben 48 ore si erano perse le tracce, per fortuna però è stato ritrovato sano e salvo, vivo e vegeto, dopo ben 48 ore di tempo. Era in campeggio con i genitori, i due hanno preso tracce diverse, il bambino si è disperso e andò a finire in una zona boschiva. Sotto a un tronco è stato ritrovato a due miglia della tenda degli amati genitori. I genitori erano sotto shock, pensavano addirittura che qualcuno l'avesse rapito oppure che il bambino fosse morto. In realtà era vivo e vegeto, stava sotto ad un tronco al riparo da eventuali forme di danneggiamento o da eventuali feroci animali che possono circolare in loco. Il bambino dunque ce l'ha fatta, il ritrovamento c'è stato, anche grazie a forze dell'ordine che con ogni probabilità sono adempiute. Bene, quindi comunque il bambino Nantesiemi il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti!